Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è AgroModerni e siamo qua in questo nuovissimo episodio di Farm Mechanics Simulator 2015 Oggi andiamo a finire l'ordine che abbiamo fatto la volta scorsa, anzi lo ricominciamo da zero perché molti di voi mi hanno detto Che non è proprio così che deve essere affrontato, cioè bisogna riparare solo le cose che sono veramente danneggiate Altrimenti poi non rientri nel budget, quindi adesso faremo la velocissima, lo rifaremo di nuovo da capo in modo da sistemare il tutto Allora, io ho di nuovo il capello di paglia anche oggi, voi sapete già il motivo Fai un giro di prova prima di cominciare a riparare Ah giusto, devo prima fare il giro di prova, quindi andiamo verso qui Mamma mia, ragazzi, questo è stupendo, io amo questo tipo di poster vintage Non mi ricordo se ve l'ho detto nello scorso episodio, ma sì, li amo tantissimo Mi piacciono veramente tanto, non ho ancora capito come mai Però mi piacciono, hanno quelli non so che di... wow Sì, ho detto frasi senza senso, a caso praticamente Ma va bene lo stesso, allora partiamo con il nostro bel test, con il trattore che si guida da solo Attenzione C'è su un trattorino così, praticamente andiamo a... Andiamo ad installare un sistema GPS che guida da solo, cioè una roba pazzesca Per tutti quelli che mi hanno chiesto Ehi, ma agro, ma... Il sistema GPS non funziona, vabbè Ehi, ma agro Ma in questo gioco ci sono solo trattori vecchi? Penso di sì Però ci sono anche meti trebbie Adesso, prima di iniziare a smontare un attimo per sistemare Voglio andare un attimo a vedere qua In teoria dovrei avere Trattori Vedete, c'è trattore e meti trebbie Però non so se i trattori ce ne sono di più raccetti oppure no Vedo che qua ci sono gomme un po' più grosse Sembrano un po' più nuove Però non si capisce bene Quindi non lo so, lo scopriremo insieme Allora, dobbiamo smontare la ruota Questo è lo pneumatico Lo pneumatico Smontiamo lo pneumatico Smonta Eh, perché? Non mi lascia? Io devo togliere questi Oh, là Chissà come maniera me lo prendeva, non lo so Adesso smontiamo qua Mi pare che quello che era rovinato era il Ah, adesso non lo ricordo anche più Allora, questo mi ricordo che era da togliere, va bene Il mozzo anche Il cuscinetto anche Forse era questo qua Questo qua sopra Allora, devono togliere Prima questo Se no mi si leva Via Poi togliamo anche l'altro E ripariamo Togliamo anche questo Togliti Ok? Era questo quello che era da riparare, se non sbaglio Tiriamo via anche questo Bullone Ora, andiamo di là Smolla tutto Ok Andiamo di là Smontiamo Facciamo la stessa cosa ragazzi Non so ragazzi Probabilmente questo gioco non ci sarà tutte le settimane Solo che questa settimana È stato un po' un casino Perché All'ultimo Con la mia famiglia Abbiamo deciso di andare in vacanza Partiremo domani Se questo video esce di mercoledì Partiremo domani Quindi Ah già è vero che qua devo anche togliere questo Toglia potrei anche solo levare questo No? Vediamo tutto Comunque partiamo domani Quindi per me è un po' un casino Perché mi devo pre-registrare un po' di video E non vi assicuro neanche che Riuscirò a Portarli tutti i giorni questa settimana Di sicuro pro farmi ci sarà Perché quello è la precedenza E farò in modo da farvelo avere Però Potrebbe essere che ci sarà un buco O qualcosa del genere Adesso vedo E quindi Niente Era solo per avvisarvi E proprio per questo Non ho ancora organizzato le nuove serie Perché ci saranno tante nuove serie che devono iniziare Allora Ah no Non devo comprare qua Ma dovevo riparare da qua Allora Questo era il 10% Ripara E poi c'era anche l'altro Al 18% E lo ripariamo Vabbè Il resto è tutto in buono stato Quindi possiamo anche andare In modalità di rimontaggio Però prima Voglio partire dall'altra Allora Facciamo qui Andiamo In modalità di montaggio Che era così Assemblaggio Giusto Non montaggio Vabbè Montare uno a caso Tanto se sono uguali Guarda Io pensavo di dover partire dall'altro Invece no Monta Rimontiamo di nuovo Ora possiamo mettere questo Collettore Una Una Vite qua Che non è neanche una vite Diciamo che è una sottospecie di bulloni Vai Ok 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 Allora So che non ha avuto Chissà quanto successo Rispetto Alle altre serie Tipo Farm Expert Lo state guardando Molti di più E però Spero che Nonostante tutto Da alcuni di voi Piace questa serie Perché secondo me È carino È carino vedere Anche dal lato Di motori Il Farming Non farmi Diciamo L'ambito agricolo Dei trattori Poi per carità Sono consapevole Che l'hanno già fatto in tanti Quindi magari Alcuni di voi L'hanno già visto E non io ne frega niente Può anche essere Può anche essere Però il commento è mio È un'altra persona Che fa il video Montiamo Cosa c'era Mozzo o no Sì Morso a mozzo Tac Poi cuscinetto Li sto imparando tutti Poi dopo Questo Ah mozzo anteriore Ok Neumatico C'è ruota in realtà Ok Voilà Ora Avvitiamo I dadi Tac Che poi sono semplicemente così Madosca Vabbè Ok Direi che è tutto a posto Timbre firma Riparato Voilà Ah A posto Va che grande Spero di Non ho neanche visto Quanto abbiamo guadagnato Quanto abbiamo speso Queste cose qua Vabbè Vabbè Un robo verde Allora Ottimo lavoro Noi vediamo Ora vediamo se sei capace Di eseguire la normale ispezione Cambia filtro dell'olio Cambia filtro del carburante Ah ok Quindi classico Tipo tagliando Va bene Allora dobbiamo entrare Ah Ok ragazzi Scusate per la piccola interruzione Ma Suona il citofono Anche ogni tanto Allora Motore Tac Ventilatore Serbatoio Esausto Non controllato Allora Mettiamoci modalità Controllo condizioni Ci clicco sopra Controllo 99% Ottimo Batteria Però Allora Filtro dell'aria Dove sarà Sarà di qua Filtro del Filtro Filtro di depurazione Principale Vediamo 100% Filtro di depurazione Profonda 88% Alternatore Vabbè Non ce ne frega niente Aspettate Fatemi vedere Cambia il filtro del carburante Cambia il filtro dell'olio Ah Filtro dell'olio Non filtro dell'alia Dell'alia Dell'aria Filtro dell'aria Filtro dell'olio Dell'olio Olio Filtro dell'olio Controlliamo Ah È da cambiare Allora lo smontiamo Perché non lo smonta? Ah Ci sono i cavi Da togliere Prima Allora basta Che mi cavi Guarda Giustamente Ok Filtro dell'olio È tolto E poi mi dice Che dovevo togliere Il filtro del carburante Ok Filtro carburante Che probabilmente Allora A rigordi logica Potrebbe essere questo? Potrebbe essere questo? Filtro carburante Oh là Scusate ragazzi Ma io non Veramente di meccanica Ne so Purtroppo Ne so poco Dovrei approfondire Dato che è una cosa che serve Allora adesso Abbiamo tolto tutto Andiamo a Riparare Direi 162 Il filtro del carburante Da riparare Altrimenti Se lo compro nuovo Alternatore Filtro del carburante 200 Usato C'è qua il quadra Che non causa Ragazzi Vediamo se era l'inizio Altrimenti Ci conviene ripararlo Allora qua No 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 Scala Filtro carburante 106 67% Beh ma Alla fine Tanto vale Che io lo porto al massimo Vediamo un po' Quanto abbiamo di budget Eh Eh Perché invece Il filtro dell'olio Dov'è finito Qua abbiamo Il filtro del carburante Che sono 162 Ma il filtro dell'olio Io l'avevo smontato Era qua Io l'avevo smontato Sì Appunto E perché non Magari vorrà che lo compro Allora vediamo un attimo Va Motore Ah Secondario Filtro dell'olio 50 Allora direi che lo possiamo comprare Compre Tanto sono obbligati Abbiamo 200 Abbiamo ancora 200 euro Di budget Eh Se lo compriamo Usato Possiamo fare Un affare Direi Perché Motore Filtro carburante Ehm Com'è sta storia Che è 1,55 E l'altro Vabbè Conviene questo Alla grande Ricorda che la condizione Di un pezzo usato Deve saldi sopra Per poter funzionare Eh no Allora a sto punto Che cavolo Me lo riparo Quindi Budget 250 Noi ho speso 2,10 Più o meno Vabbè dai Qualcosina abbiamo guadagnato Allora adesso andiamo qui Motore E rimontiamo tutto Sì se magari la smetto di volare sotto casa mia Non sarebbe malaccio Allora mettiamo Modalità di assemblaggio Quali dobbiamo andare a montare Qua Gli montiamo Il Ah Ecco Adesso non lo fa vedere Vabbè Amen Tac Facciamo che montare I Cavozzi Tubi Tubi dell'olio Ok Poi Qua Io li volevo montare Eccolo qua Il filtro del carburante Con i suoi bei cavetti Cioè i tubi Poi Mi fai Ah Ok Tu azioni Va bene No Non vuole dare Chiudi pure Non posso chiudere il motore Allora Andietro con noi Bene Allora adesso possiamo dirgli che è riparato Voila Non abbiamo neanche fatto il test Ma Ah Oh man Tanto io Mentre carica Bevo Sorseggi da una tassa Con una vacca sopra Sempre più moderni i trattori Controlla gli elementi di sistema di sterzo Fai un giro di prova in pista Allora Congratura Oppure Poi Riparazione più complicate Il cliente dice che il trattore è ancora non sterzo correttamente Ah ma è quello di prima Va bene Allora Andiamo Tipo Ruota No Cofano Alziamo il cofano Guardiamo un attimo Non motore però Sportelli Apriamo gli sportelli Cabina Allora cabina Modalità di controllo E controlliamo Qua Se lo sterzo è a posto Vediamo Sì È a posto Qua È a posto Qua È a posto Ora si continua Allora Qua c'era la scatola Trasmissione dello sterzo La trasmissione È a posto La leva di trasmissione Vediamo È anche abbastanza a posto Quindi Adesso dobbiamo uscire Della cabina Della cabina Mettiamoci in modalità condizioni Allora qua abbiamo visto che è verde 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 E adesso andiamo qua Ruota In modo da Vedere tutto il resto Allora qua Io lo controllo per sicurezza Ma direi che è tutto a posto Ruota anteriore Perfetto Vediamo Mozzo È mozzo a posto Anche questo a posto Anche questo a posto Qua è l'albero di trasmissione Dovrebbe essere E di nuovo Ma io te l'ho riparato un attimo fa Ma possibile Io mi cattolo Mamma mia Quanta ignoranza Va bene Allora adesso Cioè secondo me Questo qua che sta guidando Il trattore Quello che guida Questo trattore È uno che proprio Non ha idea Di cosa fa E distrugge Gli sterzi Così come se fosse un hobby Cosa fai Qual è il tuo hobby Allora distruggo gli sterzi E poi li faccio riparare Da goal modern Mamma mia Ah adesso ho anche L'asta di trasmissione Ho fasciato tutto Va bene Ok E quindi di qua Sappiamo cosa dobbiamo smollare Io adesso finirei Di controllare ancora Dall'altra parte Per chiudere l'episodio Perché devo stare allo stretto Con i tempi Se no non riesco a caricarvelo In tempo Allora Oh Qua avevano la ruota Che da togliere Ha proprio distrutto tutto Ma è fuori È fuori questo Ma è fuori Ok Ok Togliamo che questo Va bene Ora Questo Ok Vediamo se questo anche Come l'altro dall'altra parte No Questo a posto Quindi Nel prossimo episodio Sostituiremo Questa ruota Questo asse dello sterzo Dovrebbe essere un asse No? Asta di trasmissione Giusto E poi Toglieremo anche L'altro albero di trasmissione E Niente Niente ragazzi Vi ringrazio tantissimo Per la visione Spero che anche questo episodio Vi sia piaciuto Nonostante io sia un grande abbone Datemi qualche consiglio Nei commenti Come avete fatto Nello scorso episodio E io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Come al solito Lasciate un bel like Per farmelo sapere Un commentuzzo Per tutto ciò che mi volete dire Noi ci vediamo domani Alle 14.30 Con Pro Farming Mi raccomando Non potete perdervela La prima puntata Della quinta stagione La sesta Scusate Della sesta stagione Noi ci vediamo domani Da Crocodani è tutto Ciao a tutti ragazzi Noi ci vediamo domani Ciao a tutti